La segreteria E il tuo telefono? Bravo, il Samuele Bisogna metterlo in silenzio, sennò disturba tutta la gara Prego Siamo alla finale, giovani dei 100 metri rana uomini E il suo rete di sotto i block La sciesa 8 è einfach Jacopo Carrito Brun, spazio Spagna La sciesaune, Jan Sch Zhouber, giusto Germania La sciesaune, sciesause 7, Adam Karasch, Germany, Germania. Lane 2, forse a 2, Tadeas Strasik, Czech Republic, Repubblica Cieca. Lane 6, forse a 6, Johannes Weinberg, Germany, Germania. Lane 3, forse a 3, Shamil Shakov, Azerbaijan. Lane 5, forse a 5, Thomas Van Wongrooy, Netherlands, Paesi Bassi. Lane 4, forse a 4, Mischa Palazzo, Ralidante Sperolo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Partita. Partita. Partita la finale giovani. Sest'ultima gara individuale con la stoffetta. Siamo alla virata dei 50. Sest'ultima gara individuale. 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 Sest'ultima gara individuale.